Nuovo intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano nella riserva dello Zingaro in sinergia con aeronatica militare 118 carabinieri. Una catanese di 32 anni di PS trovata disidratata non in grado di camminare nel pomeriggio di ieri. Alla centrale 118 è arrivata la chiamata di un gruppo di turisti che chiedeva l'immediato intervento dei sanitari per l'escursionista che aveva accusato un malora mentre percorreva il sentiero costiero nei pressi di cala d'ISA. In pochi secondi è stato allertato il soccorso alpino siciliano che ha fatto partire due squadre della stazione Palermo-Madonia. I tecnici hanno raggiunto l'ingresso della riserva, lato scopale non ha trovato la donna. Pressati i primi soccorsi è stato chiesto l'aiuto dell'aeronautica militare che ha inviato sul posto un elicottero HH-130 dell'82esimo XR di Trapani-Birgi che ha trasportato la donna fino al campo di calcio di Castellammare del Golfo dove ad attenderla c'era un'ambulanza del 118 scortata da una pattuglia di carabinieri. Quello di ieri è il sesto intervento da parte del soccorso alpino speleologico siciliano presso lo Zingaro. Solo nel mese di luglio ammontano a 5 gli interventi effettuati da parte del soccorso alpino. L'ultimo riguardava una giovane donna di 24 anni di Napoli colta da un malore lungo il sentiero che conduce a Cala Beretta e salvata dalle squadre del soccorso alpino.